Vogliamo con questo video conclusivo un po' dare una visione d'insieme di quello che è già stato detto, ma aggiungendo ovviamente anche nuovi aspetti. E lo facciamo partendo da questa nozione di coinvolgimento che abbiamo già sviluppato, però per vederne anche delle peculiarità inedite per noi, per quanto è stato detto finora. Dunque il coinvolgimento, l'abbiamo detto, cambia in maniera radicale rispetto al genere, rispetto alle tecniche che vengono utilizzate, rispetto al contesto comunicativo, e quindi non soltanto rispetto al media o al medium, se vogliamo dirla singolarmente, ma il coinvolgimento avviene sempre, e questo non è mai stato detto da noi, in un certo tempo, in un certo spazio e in un certo, soprattutto, contesto socioculturale. Quindi il coinvolgimento è sempre condizionato da un contesto storico, da un contesto culturale, che ce ne favorisce una specifica interpretazione. La storia fa sì che noi interpretiamo la narrazione di una certa opera alla luce di se stessa, cioè del momento storico in cui noi fruiamo una certa opera. E questo comporta anche nell'adattamento un condizionamento. L'adattamento avviene sempre all'interno di un contesto storico, che produce generalmente quello che viene definito un aspetto di indigenizzazione delle opere. Le opere sono indigenizzate, cioè sono sempre ancorate ad un contesto culturale specifico. Ad esempio, Shakespeare fu molto famoso durante la Germania romantica, proprio grazie ad una serie di traduzioni che i poeti romantici avevano fatto, quindi stiamo parlando dell'Ottocento, di un testo che in realtà risaliva a 200 anni prima. Una serie di testi, ovviamente, quelli shakesperiani. Ed ecco quindi che la fama di Shakespeare in Germania è dovuta e si è affermata poi, in seguito, grazie a queste traduzioni romantiche. Shakespeare si fa conoscere in Germania attraverso queste traduzioni, traduzioni che poi rimangono nel paradigma culturale, nel bagaglio culturale di questo paese e che quindi influenzeranno poi anche il modo in cui viene ricevuto l'autore Shakespeare dai successivi lettori, anche oltre al romanticismo stesso. Quindi c'è una mediazione dell'opera shakesperiana, nell'esempio, dovuta ad una indigenizzazione delle sue opere. Anche altri aspetti cambiano, ovviamente anche il tempo cambia, non solo il contesto socioculturale, il contesto storico, ma anche quello temporale. E quindi noi vediamo come certe opere nei loro adattamenti siano cariche di informazioni del periodo di produzione o di scrittura dell'opera. Il dottor Jekyll, per esempio, il dottor Jekyll e il mister Hyde, è stato rappresentato in un adattamento del 1920, il momento in cui negli Stati Uniti era presente il proibizionismo, è stato rappresentato come un personaggio che è moralmente deplorevole, soprattutto in virtù del fatto che utilizza l'alcol. E questo è importante perché non è un aspetto presente nella storia del dottor Jekyll e il mister Hyde, ma viene fatto emergere attraverso questa traduzione, attraverso questo adattamento cinematografico. Abbiamo infine anche la tecnologia, che è un altro elemento che influenza, assieme al contesto socioculturale e a quello storico-temporale, che influenza, dicevamo, le possibilità stesse dell'adattamento. Gli effetti speciali, l'animazione, il 3D sono tutte tecnologie che possono favorire un certo tipo di adattamento solo in virtù della loro esistenza. E quindi anche la tecnologia è fondamentale. Infine, sussiste anche il lettore, cioè il lettore ovviamente ha una sua immaginazione autonoma, mentre nel film l'immaginazione è quella del singolo, che può essere il regista e tutta l'equip che collabora con esso, ma generalmente il regista, oltre che ovviamente lo sceneggiatore, viene imposta in qualche modo, condiziona il modo in cui noi poi andiamo a fruire la storia. Quindi la storia è fruita immediatamente dall'immaginazione di uno solo, mentre il lettore singolarmente può immaginarsi una storia differente rispetto a quella che farebbe un cineasta. Quindi ecco come i palinsesti determinano dei cambiamenti permanenti. Il palinsesto può produrre una opera filmica che poi andrà ad influenzare anche la lettura, anche ricorsivamente a ritroso, a posteriori, del lettore. Il lettore che si era immaginato un certo personaggio in un certo modo, dopo aver visto il film non potrà che immaginarselo così come il film lo ha presentato. Ecco dunque l'effetto a posteriori retroattivo che può avere il cinema sulla lettura, in questo caso. E quindi questo è un aspetto importante che modifica anche la nostra percezione e che modifica anche l'adattamento attraverso l'adattamento. Cioè l'adattamento modifica poi anche la fonte stessa, quindi c'è un percorso di interazione interpretativa. Si parte da un testo, lo si adatta, l'adattamento influenza la ricezione futura di quel testo. E infine la serie tv che è un elemento che è ormai parte della cultura di massa ma che si è affermato relativamente tardi rispetto al cinema e rispetto alle altre arti e che ha sempre assunto per affermarsi un aspetto di adattamento al contesto, quello che dicevamo prima dell'indigenizzazione. Cioè per farsi accettare spesso sono state modificate alcune battute, alcuni personaggi nel modo in cui vengono presentati attraverso il doppiaggio prevalentemente proprio per avvicinarsi ai valori locali, autoctoni, che sono differenti ovviamente da quelli della produzione, del luogo di produzione della serie televisiva. Facciamo adesso una breve sintesi, questo era per chiarire alcuni aspetti che non erano emersi e che l'Action analizza a conclusione di questo testo importante che riguarda gli adattamenti. Facciamo adesso una sintesi. Allora abbiamo detto che l'adattamento ha avuto sempre, pur nonostante la sua ubiquità, ha avuto sempre un giudizio negativo da parte della critica, cioè sono stati considerati come opere derivate e interpretate tutti gli adattamenti alla luce del criterio di fedeltà attraverso un atteggiamento moralistico che voleva che il testo adattato fosse tanto più fedele quanto più fosse possibile al testo di fonte, ma in realtà si è visto come questi possano essere qualcosa di assolutamente nuovo, possano apportare una modifica, un cambiamento, perché sono degli ibridi di fatto, sono il luogo di incontro, secondo anche quanto afferma il protagonista del film Adaptation, il ladro di orchidee in italiano. Ecco, i film che derivano da dei romanzi sono degli ibridi, sono come dei luoghi di incontro di specie diverse, come le orchidee appunto. Le orchidee sono l'incrocio di due specie distinte e così anche la sceneggiatura è l'incontro di due specie, quella cinematografica e quella letteraria. E una riflessione conclusiva che fa l'Arceon è molto interessante, riguarda la nozione di meme che viene proposta da Richard Dawkins, e i meme sono queste unità della trasmissione culturale, e che sono qualcosa che si replica e che nel suo replicarsi cambia trasmettendosi alle generazioni successive. La memoria culturale si trasmette da una generazione all'altra, replicandosi e modificandosi, e gradualmente omogeneizzandosi, diventando omogenei per adattarsi al pool memico, cioè all'insieme di tutte le altre unità di trasmissione culturale. Cioè c'è una tendenza appunto alla omogeneizzazione della globalità dei memi. Dunque, lo stesso fanno anche le storie, che possono essere narrate in diversi contesti, narrate o rappresentate o presentate, eccetera. E quindi la storia, replicandosi, si modifica. Si modifica anche adattandosi poi al contesto mediale, all'interno della quale viene trasmessa, e che quindi, entrando in relazione per ogni contesto, anche con tutto ciò che semioticamente quel contesto porta con sé. Ogni contesto mediale ha delle sue peculiarità e nel momento in cui una nuova opera entra in quel contesto mediale, entra in relazione automatica con tutto ciò che quel contesto mediale ha prodotto. Ecco quindi come c'è una tendenza anche alla omogeneizzazione una volta inserite in uno specifico contesto mediale. Dunque, appunto, gli adattamenti sono come dei memi. Cioè si replicano, si modificano nel loro trasmettersi, nel loro trasportarsi in un altro contesto mediale, e poi si omogenizzano. E questo è l'aspetto conclusivo che si voleva far emergere rispetto alla teoria degli adattamenti della Linda Atchion. Concludiamo qui questo ciclo. Spero sia risultato comunque interessante, sebbene un po' deviante rispetto ai classici video di filosofia, psicologia e sociologia che sono magari già stati presentati in passato, ma che possono comunque fare riflettere, far pensare anche a aspetti che riguardano la nostra attualità e la cultura cosiddetta un po' più popolare. Grazie. Grazie.